ma guarda questo che stronzo passa con rosso solo perché ha l'hammer targato fe 349 z hotel incurante dei pedoni che passano sulle strisce pedonali roba da male adesso se lo incontro gliene voglio dire quattro a questo deficiente e guarda come corre deve avere molta premura sto cretino oh stronzo non si passa con rosso non dai la precedenza neanche ai pedoni imbecille guardatelo guardatelo come corre è impazzito questo coglione con l'hammer